Ciao a tutti ragazzi, io sono Lachino e per me aiuti a questo nuovo video, oggi siamo su The Legend of Boy Ragazzi, io mi fermo qua due secondi, fermo qua, sto fermo, ok, 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 allora, in tre, in tre, quattro, cinque secondi mi metto un attimo in webcam e sono in basso a destra del video, quindi tre, due, uno, yeee, ragazzi, ho il cappello di The Legend of Zelda, ragazzi, è assurdo, l'ho trovato a GameStop, 14 euro, è fantastico ragazzi, è bello, bellissimo, l'unico, l'unico difetto è che è bianco e nero, ci sarebbe anche la felpa, perché però non ho visto, ho preso quella da donna, AM, quindi mia piccola e non era neanche della mia, del mio sesso, quindi ragazzi, in questo video sto in webcam, perché fa figo, fa vedere questo, perfetto, Allora, ehm, ok, è on, perfetto, ehm, ok, allora, qui stavo, ok, avevamo fatto l'ossidio, siamo andati nel nether, che laggata, eravamo andati nel nether e, niente, eravamo andati, allora, Allora, buca funzione, eravamo andati nel nether, avevamo preso qualche vera, avevamo preso queste qua, le netherworld, sarebbe la sabbia delle anime, eh, sì, la sabbia delle anime, tua madre anche, tua madre, le verruche del nether, ovviamente non sono cresciute, perché non ho aperto, non ho tenuto aperto il server, quindi non sono cresciuto un cazzo, quindi, vabbè, eh, allora, in questo episodio, voglio sistemare casa, perché, non è che posso continuare così, andando avanti a, ah, quindi ragazzi, io, ah, cazzo, io devo fare delle forbici, ragazzi, devo fare delle forbici, perché mi è chiesto, Luca, che volevo fare la La casa della mia Cosa Ok Che voleva Ah che cazzo è successo Perfetto È successo un patatac raga Ok Quindi Faccio delle forbici Che così almeno Mi prendo Queste cose qui Mi prendo tutte queste foglie qua E la casa Sto pensando anche di fare in un altro modo Ovviamente dopo Adesso non funziona più l'altricapiteto Ovviamente non mi funziona più Perché Togliendo le foglie L'altricapiteto non riconosce più Cosa deve tagliare E che non lo definisce come un albero Ma come Un normalissimo blocco Fanno schifo un attimo da vedere Ragazzi adesso Il sistema E Ragazzi Taglio il video Metto tutto velocizzato Con la mia Fai Quel bellissimo facione Che vedete qui In basso elettro del video E ci vediamo dopo Yeah Finito Ok devo farne Devo farne un bel po' di forbici Quante foglie ho Uno stack Quattro stack che passa Guardate Vedete Non riconosce più L'altricapiteto Quindi Aspetta Oh no Ok perfetto La via La via miner La riconosce ancora Guardate La riconosce ancora il blocco Perfetto Meno ma Ragazzi che culo Questo è tutto culo Che si può Perfetto Ed è anche molto Secondo me conviene di più D'altricapiteto Perché così a meno Con l'ascia O col piccone O con tutto Puoi far fuori Un intero blocco Cioè Facciamo Tre 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 Ok Togliamo tutta sta merda qui Mettiamolo qui Mettiamolo qui Perfetto Ok dopo questa puttanata Lasciamo stare Allora Tanto che è buio Non me ne fa Ma aspetta Scusatemi Scusatemi Cazzata mia Ecco Dicevo Ecco perché non vedo i mob Dicevo Non ci sono gli squid Cioè Perché ho messo Normale Despawnato uno squid Ma va Fa un culo Vabbè Tutto velocizato Di nuovo Eh Velocizza Velocizato Che cazzo detto Tutto velocizzato Ragazzi Che Dicevo Inghè 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 I Inghè 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 But it's no use Cos you can't stop it From shining through It's true Baby Let the light Shine through If you believe It's true Albee L'idea è di metterlo in blocchi vari Mettiamo uno stack Così almeno Così Minchia Avanti Indietro Ehi cara cosa è successo ancora Io ho il fastidio Cos'è successo ancora Ah perchè qua non l'ho messo Infatti lo stavo facendo l'altra volta Ma che pirla ma che pirla Lo stavo facendo l'altra volta Mi sono spaventatissimo Ok Allora quindi Ah il legno ce l'abbiamo anche qua Perfetto Raga Seriamente perfetto Allora Quindi Devo fare un pneumatic servo Quindi Allora uno di redstone Due ferri E Dove sono i blocchi Ok Allora quindi Ah il legno ce l'abbiamo anche qua Perfetto Perfetto raga Seriamente perfetto Allora Quindi Devo fare un pneumatic servo Quindi Allora Uno di redstone Due ferri E Due sui blocchi Due di vetro Spero che sia così Perchè non mi ricordo Due creeper Oh Shhh Tull Ok Allora devo cuocere il vetro Ah Che male Intanto qua quante Quasi a Mille Cattie Ah si dopo devo Eh vabbè Non lo metto adesso Perchè Tanto Non lo sto usando Quella roba lì Allora Perché Perché non mi Allora Pam 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 Adesso sbagliato Pam Pam Che culo Che culo si è ricordato il crafting lui Ha 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 Spento di sapere Ok Prendiamo un Un coso di questi White list Mettiamo chi Mettiamo chi Mettiamo chi Mettiamo chi Ok Andiamo fuori Ragazzi Non so se avete visto Per la faccia che ho fatto Madonna Santissima Eh Non so se Mi avete visto Per prima Per la faccia che ho fatto Ma quel creeper lì Non mi ispira Per niente fiducia Che figlio di troia Che figlio di troia Mojonga Siancia Mojonga Ok Più laggata Allora laggata Uuuuuh Mojonga 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 Grazie Per l'ex Mi lagga un po' Puttana Oh non ci vuole Tutti di coprire Eh vabbè Che lagga Quante mod ci sono Che cazzo Oh non c'è un cazzo Eh vabbè Lagga Il fastidio Quando lagga Il fastidio Lo sapete Il fastidio Allora chiudiamo tutto Poi che spawn Mod Eh Due secondi Sistemiamo Sto macello La L'aperta La porta La porta L'aperta Sistemiamo un attimo Sto magia E poi continua Eh la madonna Figa Voglio sistemare Figa Gli interi stack Di Di Perfetto Oh che cazzo Esta roba Che cazzo Allora 60 minuti Ma quante volte Ho detto Allora oggi Porca Allora Che cazzo Sì Grazie Spam Tagliamo Tagliamo via Questo 22 Ok Perfetto E guardate Tutto quello che è collegato Nella via miner Viene raccolto Guardate Questo albero È collegato a quello No guardate Solo questo albero Stavo scherzando E ho collegato Anche all'altro Allora Non ho sprecato Altri due Porca Si sprecano Come niente Ste robe Ok ovviamente Si è rotto Poi alla fine Fa quello che può fare Forse che si fa Quello che si può Forse che si fa Quello che Basta Ok Se no Copyright Viene a trovarmi Per dire Ciao io sono Copyright Tu chi sei? Sono la Kim Che tentava di Almeno in questo canale Scappare In coppia Invece Capo da cazzo Effetto Alziamo casa Alziamola Adesso che Adesso che Adesso che Adesso che Adesso che Adesso che Baby, let the light shine through If you believe it's true Baby, won't you let the light shine through For you Baby, let the light shine through Baby, let the light shine through Allora, mangiamo qualcosa Io direi di chiudere anche qua l'episodio La finisco io con calma, poi vi metto tutto il video velocizzato Quindi ragazzi, se il video vi piaciuto Se il video vi piaciuto, come al solito lasciate un mi piace Anche la pagina di Facebook, come sempre trovate nella descrizione Un commento e un'iscrizione Si stanno ammazzando E noi ci vediamo nel prossimo video Ciao tutti ragazzi E No E